Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio parlarvi di qualche novità del mio canale YouTube. Avrete già provato sicuramente a cliccare nei link che richiamano le schede tutorial oppure avete visitato la mia pagina, il mio profilo TP. Sono due novità importanti che ho potuto realizzare grazie all'aiuto di un mio collaboratore. TP è una piattaforma che consente ai miei followers di sostenere la mia attività con una mancia. Voglio tranquillizzare tutti quelli che non possono permettersi un gesto del genere. Il mio canale sarà sempre lo stesso, uguale, i contenuti saranno sempre gratuiti e continuerò a fare esattamente quello che facevo due anni fa e tre anni fa da quando ho aperto il mio canale YouTube. Però adesso chi vorrà sostenere la mia attività concretamente potrà farlo grazie a TP. Vi metto il link in descrizione e potete visitare la mia pagina. Ci sono due possibilità di tip. Uno è chiamato caffè. Sostanzialmente mi offrite un caffè. Come ricompensa il mio collaboratore ha preparato una scheda tutorial da poter scaricare. Il secondo tip, chiamato materiale didattico, è una ricompensa più importante. Quindi troverete all'interno tutto il materiale didattico relativo ai miei tutorial, dal giorno in cui si fa il tip, fino ai 30 giorni successivi. In descrizione troverete sia il link del mio profilo TP, ma troverete anche il link per scaricare delle schede tutorial. La seconda novità del mio canale YouTube è la nascita di questa linea di chitarre che porta il mio nome, Chitarre Ottaviani. Si tratta di chitarre testate e scelte da me in collaborazione con gli utai che hanno aderito al progetto. Questa che vi presento è una chitarra italiana al 100%, completamente costruita qui, con le mani sapienti di un gliutaio italiano che ha realizzato una chitarra comodissima e al tempo stesso davvero economica. Quindi se volete una chitarra classica, semplice, che suoni bene, soprattutto comoda, scelta da me, quindi con la garanzia di avere un prodotto che funzioni e soprattutto italiano, questa potrebbe essere la chitarra che fa per voi. Ribadisco quello che ho detto all'inizio, non cambierà nulla sul mio canale YouTube, tutto quello che ho fatto fino adesso continuerà ad essere gratuito. Queste novità vogliono essere soltanto dei servizi in più per i miei followers. Vi ringrazio per il continuo sostegno, su YouTube siamo ormai quasi 55.000, vi consiglio anche di seguire la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram. In ognuno di questi social cerco di inserire contenuti differenti per non essere ripetitivo. Grazie ancora per la vostra disponibilità, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Per seguire altri video tutorial, clicca qui.